Avrebbe prima avuto rapporti sessuali a pagamento con anziani e poi avrebbe formato un'associazione di ragazze specializzate in truffa, estorsione, ricettazione e furti con la pratica della prostituzione. La metraes, 27 anni, di Rodi Garganico, insieme ad altre tre ragazze e tre uomini, di cui uno di nazionalità romena, ha ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare. È stata incastrata dalla intercettazione nel corso di un'indagine dei carabinieri di Vico del Gargano, avviata nel 2016 a Rodi. Le indagini, durate quattro mesi, hanno accertato sottrazioni ed azioni forzate da parte del gruppo per un importo complessivo di circa 150.000 euro, consistenti in denaro contante, bonifici bancari, spese effettuate con una carta Bancomat, un cellulare di ultima generazione, un orologio di ingente valore, una pistola e due terreni agricoli. Tra le vittime, un anziano di 80 anni, di Rodi. Dopo gli incontri, l'uomo era costretto a sborsare contanti ed effettuare bonifici. Sarebbe stato costretto anche a sottoscrivere un contratto di cessione di due terreni, altrimenti avrebbero raccontato tutto ai suoi familiari. L'uomo avrebbe subito anche furti durante gli incontri, eloquente l'intercettazione. Portatelo nella cucina, gli dici dammi un bicchiere d'acqua e chiudi la porta, fai finta che lo tocchi. Hai capito? All'uomo avrebbero rubato anche una pistola regolarmente detenuta. Per riaverla avrebbe pagato 1.000 euro. La donna avrebbe imposto alla vittima di non denunciarla dietro la minaccia di raccontare ai carabinieri dei rapporti sessuali a pagamento consumati anche con ragazze minorenne.